ciao a tutti si avvicina alla festa della mamma e abbiamo pensato di preparare una rosa disegnata su legno con il pirografo qui vediamo un pezzo di tronco tagliato molto ruvido visto da vicino quindi prima di disegnarlo è necessario lisciare bene la superficie con della carta vetrata prima partiamo con una carta vetrata da 500 che ha una grana già abbastanza fine ma non del tutto e poi passiamo l'800 che è ancora più fine dobbiamo togliere ogni imperfezione del legno perché altrimenti la punta del pirografo può avere delle difficoltà a scivolare sulla superficie quindi bisogna passare molto bene la carta vetrata affinché sia perfettamente liscio qui abbiamo trovato questi tronchetti di legno con la corteccia è un legno di betulla quindi abbastanza tenero facile da pirografare e l'effetto poi con la corteccia che fa da cornice è molto carino ecco qui vediamo la carta vetrata da 500 e poi passiamo all'800 proprio per togliere ogni imperfezione questo è il disegno che andiamo a ricalcare l'abbiamo fissato con della carta gommata e poi con la carta carbone e la parte copiativa rivolta verso il legno dobbiamo ripassare tutto il contorno di questa rosa con una matita punta molto fine in modo da poter essere più precisi possibile grazie a tutti ecco una volta finito il disegno possiamo togliere il foglio lo teniamo vicino per avere un confronto e possiamo cominciare ad accendere il pirografo conviene prima provare su un pezzettino di legno di scarto per verificare la temperatura giusta a questo punto cominciamo utilizzo una punta piatta che mi serve di taglio e anche di piatto la uso molto perché mi sembra che sia la più vantaggiosa mi trovo molto bene anche per fare le sfumature qui abbiamo accelerato un po' il video perché come sempre è un lavoro piuttosto lungo ci vuole tanta pazienza ma alla fine come dico sempre i risultati sono soddisfacenti e quindi Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. iscrivetevi, a tutti.